Buongiorno a tutti, credo che sono momenti molto importanti per chi opera all'interno del mondo dello sport. Il primo ringraziamento che voglio fare è alle amministrazioni che in questi giorni e in questa occasione di consegna delle beneminenze sportive ci danno la possibilità di farle in stanze che danno un senso allo sport e cultura. Il cerigone di consegna delle benemerenze sportive è il momento istituzionale del CONI forse più importante dell'anno, unitamente la giornata nazionale dello sport. Però questo momento, per come noi lo interpretiamo, non vuole essere una semplice consegna di una Italia. È sì la consegna di un riconoscimento che il CONI nazionale fa a dirigenti ed atleti che grazie alle loro fatiche hanno conseguito e conseguono risultati importanti. Ma diceva giusto Antonio Pastorelli prima, bisogna fare squadra. Allora come avviene questo momento di festa? Lo vogliamo condividere con le federazioni che sono presenti, con i vostri assessori, con insieme a tutti i nostri gruppi. Un'occasione per darvi tutto il tributo per tutto quello che avete fatto. Noi siamo a Verona, un saluto sicuramente da parte dell'assessore sport del Comune di Verona. Buongiorno a tutti, ringrazio, saluto davvero con grande piacere di rappresentare anche Federico Coni, Presidente Bardelle, Nesato, vedo anche Federico Volentieri, perché oggi ho del amico ovviamente, il padrone di casa Antonio Pastorelli, che oggi è una giornata, come diceva il Presidente, giustamente importante, è una giornata di riconoscimento, è una giornata anche di festa, perché è giusto riconoscere insieme e gioire gli risultati importanti raggiunti durante l'attività dell'anno sportivo trascorso. È indubbio che ormai il Movimento Sportivo Veneto e in particolare quello veronese sta davvero macinando tantissimo e questo frutto sicuramente di un grande lavoro che arriva innanzitutto dalla grande passione e dal volontariato che abbiamo sul nostro territorio che è davvero incommiabile. Comitato italiano paralitico, il premiato è Rosario Federico, consiglio e premio il Presidente Coni regionale Gianfranco Bardelle e il Delegato Provinciale con il vero Mastetono, Nesato. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.